oh la cara italia colpisce ancora spagna italia 2 a 1 complimenti a tutti quanti inissimo fallimento ormai ci siamo abituati dai non è non è la fine del mondo infatti come come ti avevo detto c'è una sola notizia positiva cioè non siamo arrivati in finale quindi non possiamo perdere la quinta finale su cinque in un solo mese in 15 giorni sarebbe stato veramente pesante questa è la buona notizia poi c'è tutto il resto se vogliamo analizzare rapidamente la partita diciamo il primo tempo ai punti meritare più l'italia sinceramente la spagna si ha fatto come al solito più possesso ma noi siamo stati molto molto più pericolosi e quel gol all'inizio ci ha tagliato le gambe fortunatamente abbiamo fatto quel gol col calcio di rigore tra parentesi una bella botta di di fortuna perché quel cross di zaniova era completamente sbagliata ha preso il braccio di dico di l'enormanda e abbiamo segnato con immobile per il resto secondo tempo con diciamo che ha iniziato meglio la spagna poi noi siamo ci siamo ripresi ma ci siamo mangiati una quantità di gol impressionante e poi alla fine entra jose lu che l'hanno pure pubblicizzato bene i nostri telecronisti telecronisti l'uomo del gol sto entrando che al suo debutto ha fatto due gol nel giro di quattro minuti muoce tra su ha fatto gol e che gol cioè tiro deviazione doppia deviazione tra cristante e acerbi e poi arriva il pallone a joselu donnarumma battuto perché si fa ingannato dalla deviazione a portavuta gol 2 a 1 la spagna in finale è che soltamente la spagna questi gol li subisce però con noi li fa con noi con noi la regola non vale c'è io direi che ma abbiamo siamo sempre tutti quanti molto riconoscenti per il caro roberto che troppo fashion però quanto deve durare ancora questa riconoscenza perché io non riesco più a vedere questa linea difensiva formata da toloi bonucci acerbi ma con tutto il bene per acerbi ha fatto una buonissima stagione toloi pure non è male però ci rendiamo conto che noi stiamo giocando ancora con bonucci capitano che non gioca neanche più nella juventus però nell'italia è titolare fisso e ci abbiamo gente come scalvini bastoni casale romagnoli tutti quanti lì perché già stanno in davilletta a fare le vacanze estive con la piscina e noi nel frattempo a prendere i pesci in faccia in queste partite di nation's league sinceramente questo è l'aspetto più sconfortante di di mancini io mi sono arrabbiato più volte per le sue provocazioni a livello di convocazione perché alcune cose sono sono provocazioni che poi dovute al niente perché io per esempio mi ricordo perfettamente che lui all'epoca dell'internet certamente non faceva giocare italiani quindi è una è una provocazione inutile però adesso devi smetterla di raggiudicare il percorso dell'italia nel senso almeno prima io lo potevo giustificare non solo perché aveva vinto ma perché aveva l'intenzione attraverso la creazione di un gruppo unico e coeso e quindi avrebbe tenuto fuori giocatori importanti che poi facevano anche belle stagioni tipo politano come ne parlamo prima dell'europeo aveva intenzione di formare un gruppo di giocatori che sarebbe durato un miniciclo in quel caso sarebbe stato il ciclo dell'europeo per arrivare al successo ma questo non è un miniciclo perché bonucci toloi acerbi non possono essere un miniciclo che possono essere un mini ospizio ma non possono essere un miniciclo non ti portano da nessuna parte e lui lo sa cioè lui lo sa non è una cosa ammissibile cioè tu hai al di là di quello che ti piace e non ti piace dei giocatori tu hai la miglior difesa del campionato la seconda migliore difesa del campionato italiano che sono stati casale e romagnoli già ce l'hai la coppia pronta cioè non è che la devi lavorare e quella è la cosa che mi fa arrabbiare non c'è niente da lavorare già ce l'hai la difesa pronta ammettiamo anche caso che tu voglia continuare con le provocazioni e quindi vuoi mettere i giovani ma ce ne stanno quanti di voi di giovani fai una bella difesa buongiorno bastoni scalvini e perdono perfetto ma hanno imparato qualcosa ma io posso capire quest'italia che cazzo ci guadagna a perdere a prendere un gol e perdere una partita perché donna roma fa un passaggio a bonucci che prova a fare un dribbling sulla soia dell'area di rigore ma che cosa impara quest'italia però non impara niente impara che ci sono giocatori che sono finiti e poi vabbè lui lo dice poi alla fine partita noi abbiamo giocato in una maniera che non è consona a noi perché l'abbiamo fatto perché se la scusa è sempre la stessa cioè noi non possiamo metterci a paragone con il palleggio della spagna è un discorso completamente inutile anche perché poi si sa che la migliore arma contro queste squadre è proprio rivoltare il possesso contro di loro perché non è che se tu trovi una squadra che fa tanto possesso allora diciamo beh noi glielo cediamo perché quello è il raggiamento che fanno le squadre perdenti se tu sei una squadra che fa bene il possesso perché l'identità che tu hai sposato tu anche se ti trovi davanti il dio del possesso devi provare a fare possesso a meno che ovviamente non ti vuoi reinventare cosa che mancini non ha fatto tanto che poi subito dopo in quella intervista post partita ha detto nella prossima dobbiamo tornare a fare come facciamo ma perché non l'abbiamo fatto pure stasera quindi per concludere mi riallaccio quello che dici tu il credo è finito da tempo cioè la non esiste che un allenatore che siccome l'ha portato un europeo allora possiamo giustificare che perda una nation's league come quella precedente che aveva perso in maniera stupida non ci qualifichi al mondiale e poi perde anche la nation's league oltre che la finalissima della concaf uefa della coppa concaf uefa cioè non è che non si sono sommati i fallimenti di mancini si sono sommati e sono anche gravi alcuni su tutti quello del mondiale quindi credo non solo è finito ma non si può più permettere di provocare inutilmente con le convocazioni e poi soprattutto nessuno al mondo si permetterebbe di schierare una difesa del genere nessuno per cui se lui vuole continuare a fare il ct dell'italia prima di tutto ci deve essere una federazione sana matura che gli faccia capire che sta facendo delle cazzate incredibili adesso per tutto lui metta la testa a posto cioè formi il gruppo che vuole formare e non ci prenda più per i fondelli perché non è possibile vedere nel 2023 toloi bonucci acerbi non è possibile ma pure ho pure il giorginio che io ha pure giocato bene oggi però io continuo a dire che giorginio purtroppo sta sta si sta avviando verso la discena noi abbiamo dei centrocampisti in quel ruolo là incredibili tra locatelli tonali pieni ricci pure cioè un sacco di giocatori abbiamo a centrocampo e noi giochiamo con giorginio che con tutto il bene ma se vogliamo fare noi al mondiale che verrà tra quattro anni andremo a giocare con giorginio acerbi bonucci e toloi non penso però quindi quando vogliamo formare st'italia nuova ma ci rendiamo conto dall'altra parte la spagna che sta piena di ragazzi e non ha paura di metterli cioè io non lo so noi stavamo facendo così tanto bene a provare tutti questi nuovi giocatori però sempre nelle zone offensive nelle zone difensive no noi ci mettiamo in paura cioè se dobbiamo far provare un attaccante ok fa niente prendiamo reteghi dal dall'argentina vai e buttate ma se dobbiamo cambiare il difensore apriticelo senza cosa cioè boh io non capisco perché il difensore è così tanto diverso da uno dei altri ruoli della di una formazione cioè per quale motivo io non posso provare ma io è una bella domanda io ti dico pure una cosa lo dico anche per chi ci ascolta io non sono arrabbiato per la sconfitta perché io sono molto arrabbiato per questa sconfitta però non sono arrabbiato perché abbiamo perso perché perdere con la spagna va beh che ormai per noi è diventato un iter normalissimo noi con la spagna perdiamo cioè ragazzi non esiste più la rivalità con la germania ve lo dico non vi esaltate più quando vinciamo con la germania o con l'inghilterra i nostri nemici sono la spagna ci tolgono sempre dai coglioni in ogni sfida che facciamo quindi attenzione che i nostri nemici sono la spagna ormai la nuova generazione di persone quelli che hanno la nostra età praticamente si sono visti solo prendere abbatitate dagli spagnoli dall'europeo del 2010 che abbiamo perso 4 a 0 e vabbè comunque non sono arrabbiato per la sconfitta perché perdere con la spagna ci sta però ti ripeto questa è una sconfitta che tu ti vai a prendere per per delle scelte completamente cervellotiche io mi sono immaginato questa questa italia anche soltanto con dei giocatori moderatamente giovani quindi parliamo per esempio di 25 anni massimo che sarebbe stata in campo stasera una squadra di altissimo livello una squadra che insieme a frattesi poteva vedere un fra botta un bastoni un parisi poteva vedere buongiorno romagna gabbia cioè ma non è che non ci siano giocatori quella è la cosa che mi fa arrabbiare tu ti sei portato oggi ti dovresti portare o coli che è un giocatore che è pronto che gioca nell'atlanca se lo porta l'under 21 e quindi sembra che non debba arrivare il nazionale quando gnonto è stato convocato nell'under 21 ed è stato portato cioè questo è proprio un irrigidimento che non ha motivo di esistere cioè perché non convoca più giocatori che siano freschi e che abbiano intenzione di prendere seriamente l'impegno con l'italia perché ci sono giocatori che non hanno più niente da dare riferimento a quello che tu hai detto su giorginio per me può anche essere che giorginio abbia qualcosa da dare ancora ok ma se tu hai deciso che in questa partita non devi palleggiare ma ti rendi conto che giorginio è un giocatore regalato all'avversario perché in fase di pressing è inutile e perché nel momento in cui tu hai deciso che non devi palleggiare e l'unica tattica che hai è darla a Bonucci che poi farà il lancio lungo non ti serve quel regista in mezzo al campo cioè sembra che stiamo parlando di cose che siano difficili ma queste sono cose semplici e lo sa benissimo pure lui io non posso accettare che un allenatore, un CT che abbia fatto quel progetto super interessante con tutti quel gruppo eterogeneo di giocatori perché il gruppo dell'europeo è stato veramente eterogeneo ha figurato giovani e anziani gente esperta e gente alle prime armi non posso accettare che all'improvviso perda qualsiasi misura della vista calcistica e comincia a trattare così la nazionale cioè se Mancini se ne vuole andare perché trova che sia impossibile con l'attuale pattern di giocatori vincere ma se ne vada secondo me lui non ha paura perché c'è il posto fisso cioè lui non glielo toglie nessuno cioè c'è una campera di rendita fino al prossimo mondiale quindi lui fa quello che cazzo vuole cioè proprio fare così senza problemi lui non se ne frega pure questa Nations League è andata bene andiamo avanti poi ci saranno le qualificazioni per i prossimi europei e vediamo cosa succederà può essere che l'Under 21 farà meglio vediamo non ci perdiamo l'Under 21 c'è delle convocazioni più forti di quelle che ci stanno in nazionale ma giù ah sì sì poco ma sicuro e sono serio e riguardo chiunque neghi che la squadra dell'Under 21 non è più forte della squadra A non capisce un cazzo non capito un cazzo se lo pensate andatevi a vedere chi sono i convocati della squadra dell'Under 21 e andiamo avanti e bene ragazzi se sto video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo video viva il calcio e forza Italia